Riesci a parlare? Ma chi sei? Non sono uno di loro. Il direttore della DARPA mi ha detto che hanno scoperto il suo codice. E il suo... Ho capito. Ti ha mandato a giù. Vieni dal pentagono. Rispondo alla mia domanda. Il suo codice, che ne è stato? Non c'è tempo. Ma io ho parlato. Cosa? Ora i terroristi e i microdici possono lanciare in qualsiasi momento. Non credere che non abbia lottato. Sono riuscito a resistere alla sondamentale di Psicomantis. Non è riuscito a maggiare la mente. Come è riuscito a resistere? Il nest di nercia ferma. Il nest? Il nest. È una sorta di isolamento psichico. Tutti coloro che conoscono questi codici top secret lo usano. Anche il direttore? Naturalmente. Ma il direttore della DARPA ha detto che Mantis ha scoperto il codice leggendogli la mente. Sei sicuro? Sì, ne sono certo. Ma come hanno fatto a ottenere il suo codice? Ma non mi hanno mai addestrato per resistere alla tortura. Sembra che si siano proprio divertiti con lei. È una belva. Si è evoluto ogni seconda di quell'orrore. Cosa è successo al suo braccio? Me la spezzata. Te l'hanno spezzata? Il suo braccio è stato tagliato via. Ma sei un tipo spirito sotto, eh? Allora, il direttore della DARPA sta bene? Morto. Cosa? Non può essere. Non era quello che avevi promesso, Jim. E ora vuoi mettere a tacere anche me? Oh, stai calmo, bene. Si può sapere che cos'ha? Le ho detto che sono qui per salvarla. Non ho ucciso il direttore della DARPA. Ha avuto un infarto. Qualcosa del genere. Un infarto non di recenezia. In ogni caso, ora, i terroristi hanno tutti i miei codici. Quelli sono completamente pazzi. Lanceranno la bomba senza esitare. Lo penso anch'io, ma che cosa vogliono realmente? Ma chi lo sa? Forse sono come noi dell'industria bellica, sempre in cerca della prossima guerra. Beh, mi spiace per loro, ma oggi non gli permetterò di iniziare una guerra. Ancora le schede chiare. Quali schede? Bene per bloccare la sequenza di l'ancio. Ho sentito che le ha lei. Ma non più. Cosa? E chi le ha allora? Non i terroristi spero. Chi ce l'ha? Quella donna. Donna? Chi? Un soldato che è stato oggettato in prigione insieme a me. Un soldato donna deve essere. Era appena arrivata. Era una lepura. L'hanno rincorsa in prigione perché si era liquidata di prendere parte all'anime di Ombra. Una nuova lepura. Potrebbe essere la nipote del colonnello. La nipote del colonnello? Ha dato a lei la scheda. Sembra che sia riuscita a scappare. Spero che è una schia bene. Sono sicuro che è a posta. È una pivellina ma con tutte le carte regola. Ma lei come fa a sapere che è scappata? Ero in contatto con lei via Codec. Fino a quando non mi hanno arrivato qui piano. Codec? Sì, l'ha rubata a una guardia. Se ce l'ha ancora dovresti poterti mettere in contatto con lei. Ce l'ha di sicuro. Qual è la sua frequenza? Ah, già. Aspetta. Dicela, qual è la frequenza di Merib? La sai? Sì, mi piace. Non ricordo. Donazione. Come fanno a saperla? Ma certo. Dovrebbe essere sul retro della confezione del cd. Prova a contattarla. Lo farò. Ma mi dica se le schede non funzionano. Non ci può essere un altro modo per fermare quel missile. Non ci può essere un altro modo per fermare quel missile.